La prima radio dedicata alle sigle televisive degli anni 70 e 80. E poi il leone, il gatto, il topo, il topo, s'attormentano il serpente, l'osso, l'anatra, il tacchino e il maestro ripetente. E poi è il terribile Pierino. Pierino che sogna, sono tanti potenti, non vive nel West, ma mangia confetti. Pierino non beve neanche il caffè, ma è sempre l'eroe, più forte che c'è. Dorme e sogna il nostro eroe, tutto quello che gli pare, una nave sopra un monte, un castello in mezzo al mare. Dorme e sogna da affrontare 115 briganti, mollando un gran ceffone. Sì, 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 sì. Da chi a parli tutti qua, tutti quanti. Pierino che sogna, sono tanti potenti, non vive nel West, ma mangia confetti. Pierino non beve neanche il caffè, ma è sempre l'eroe, più forte che c'è. Pierino non beve neanche il caffè, ma è sempre l'eroe, più forte che c'è. Pierino non beve neanche il caffè, ma è sempre l'eroe, più forte che c'è. Pierino che sogna, sono tanti potenti, non vive nel West, ma mangia confetti. Pierino non beve neanche il caffè, ma è sempre l'eroe, più forte che c'è. Pierino che sogna, sono tanti potenti, non vive nel West, ma mangia confetti. Pierino non beve neanche il caffè, ma è sempre l'eroe, più forte che c'è. Che c'è!